alessio buongiorno buongiorno è chiesto il permesso a don saverio quel territorio di don saverio io ho chiesto il permesso a niscina per il caffè per un caffè per un caffè per un caccio banca tutto scufo c'è la mattina adesso lo chiamo a don saverio mi chiamano quello che non riesce a tenere un po' dove? veramente per questa volta lo facciamo il caffè però glielo dico a don saverio che non va a sperare non va a sperare non va a sperare non va a sperare ma come anche i quadri aveva voglia di mettere i mali fissi cosa vuole fare a fare a mettere i mali fissi cosa vuole fare a fare ma fa tant'anni che ora usi i carri del bere ma non ho detto cosa e ti dà la bocca se no vengono a me la pratica e non ti fai fuori è il rischio don saverio rischio manifesto io dico pur c'è la famiglia se la sono a chiede dopo non sa pure se stai a città a farsi infatti se no don saverio don parto io sono sempre uno don saverio don saverio un'ombradoia allora saluta don saverio saluta il telecamera carne don saverio apre l'ucchio che ci vengono si caro che ti fai fuori cosa ho detto e ti dà la bocca che troppe vittime l'ha acceso stai a farsi città stai a 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 città e così ci fai miglietto se no te la fai pure la famiglia troppo da quattro tavole te la vada chi un campassaggio ciao don saverio stai attento a don bartolo via